terzo giorno di lavori all'ex ormai fu bagno trocadero ristorante trocadero come potete vedere le ruspe sono arrivate alle fondamenta praticamente non esiste più niente questo è il bagno romeo questo è il bagno adriatico e in mezzo praticamente non c'è più niente guardate questo è quello che c'è sotto il ristorante trocadero sabbia quello è un pezzo di fondamenta andiamo più più dentro al cantiere a vedere lo scavo la profondità dello scavo guardate che fondamenta ecco questa è la profondità dello scavo documentiamo e questa è cesanatico buona giornata